I cuori dei tifosi nerazzurri battono più tranquilli dopo aver appreso le ultime notizie sullo stato di salute di Marcus Thuram. Il talentuoso giocatore francese, protagonista nella vittoria dell'Inter contro il Benfica, è uscito dal campo durante la partita a causa di semplici crampi. Una preoccupazione momentanea si è sciolta nell'entusiasmo generale, poiché non ci sono gravi conseguenze da temere. La salute di Thuram è al sicuro. E questa notizia è un vero e proprio tocca sana per i tifosi nerazzurri. La sua crescente importanza all'interno della squadra di Inzaghi è palese, e il suo contributo è stato determinante nella recente vittoria. Thuram rappresenta una fonte di grande fiducia per i sostenitori dell'Inter. Un giocatore che può fare la differenza in campo e che sta dimostrando sempre più di essere fondamentale per il successo della squadra. La sua prontezza nell'adattarsi al gioco nerazzurro e la sua capacità di mettere in difficoltà alle difese avversarie sono aspetti che non possono passare inosservati. I tifosi possono ora guardare al futuro con rinnovata speranza, sapendo che Thuram è al massimo delle sue potenzialità e pronto a continuare a brillare nell'universo nerazzurro. In definitiva, la notizia positiva sulla salute di Thuram è un motivo di gioia e incoraggiamento per i tifosi dell'Inter, che possono attendersi ulteriori gesta eroiche da parte di questo talentuoso calciatore. La strada verso il successo è ancora lunga, ma con Thuram in forma, il futuro appare più luminoso che mai.